È un bilancio che a livello personale è sicuramente positivo perché sono stata un'esperienza sicuramente formativa, ho avuto modo di conoscere bene il mio territorio, in tutte le sue componenti e sono stati sicuramente quattro anni molto faticosi. Faticosi perché si è preso in mano un ente che di fatto doveva essere smantellato, stante la riforma del Rio, ma con tutte le funzioni ancora da svolgere e quindi ogni anno con una rincorsa a pareggiare un bilancio, a garantire la copertura delle spese, degli stipendi e a garantire i servizi soprattutto. A garantire i servizi con mediamente un quinto delle risorse che in tempi normali erano disponibili è stato sicuramente difficile. Diciamo che però c'è sempre stata la presenza dell'ente sul territorio, non posso rimpiangere nulla perché ho cercato di far percepire la provincia vicina in ogni contesto. Adesso diciamo che spetta comunque un lavoro enorme per chi verrà dopo di me perché non c'è ancora una chiara, non si delinea un futuro chiaro. Un destino non chiaro per le province ma delle questioni importanti, aperte, per esempio il Maggio. Sì, le questioni più importanti sul tavolo e ancora aperte sono sicuramente quella della Scuola Maggio. Poi rimane ovviamente sul piatto il discorso viabilità che in questi anni è stato seriamente compromesso, la Galleria della Verta ne è un esempio. C'è qualcosa che gli ha dato soddisfazione in questi quattro anni di lavoro al Tecnoparco? Mi ha dato soddisfazione vedere comunque una parte buona di questa provincia che non si è mai abbattuta, che ha sempre portato avanti iniziative. C'è una presenza di volontariato che molto spesso si sostituisce, anzi sostituisce il ruolo dell'ente pubblico e si è addirittura rafforzato. Si è rafforzata la solidarietà anche tra enti. Molti colleghi sindaci hanno capito le difficoltà e hanno capito che dare la colpa alla provincia era come dare la colpa a se stessi. In questo lo metto tra i lati positivi l'aver visto comunque tanta gente, tanti funzionari pubblici comunque che sono stati più che dimezzati ma hanno continuato a fare il loro dovere, a mettere in gioco la loro professionalità e li ringrazio per questo ma soprattutto ringrazio un territorio che sta facendo il possibile per rimanere a galla nonostante le difficoltà crescenti.